E allora un attimo Scalfarotto e poi lascerò... L'onorevole Fiano, vorremmo ascoltare l'onorevole Scalfarotto. Prego. Grazie signora Presidente. Allora, qui abbiamo, chiaramente siamo davanti a un potenziale conflitto di interessi del quale siamo stati informati in aula. Allora il punto è che se l'onorevole Nesci ci dice che lei non ha mai stipendiato questa persona noi non vorremmo che questa fosse l'occasione per dare uno stipendio a un collaboratore a carico dell'erario, a carico della finanza pubblica. Allora, per evitare che questo collaboratore gratuito, l'onorevole Nesci, finalmente acceda a uno stipendio a carico dei contribuenti, c'è una sola modalità, che l'onorevole Nesci, che ha una vicinanza a questa persona, ci assicuri subito in questo momento che garantisce che questa persona ritira in questo momento la sua candidatura a qualsiasi posizione, cioè che quel curriculum che si trova sulla scrivania del ministro Grillo viene ritirato, perché altrimenti, dico tramite l'onorevole Nesci, qui non viene smentito che la vicinanza al relatore del provvedimento è utilizzata per piazzare un proprio famiglio, un proprio collaboratore, cliente in una posizione pubblica, altro che la moralità del Movimento 5 Stelle. Grazie, colleghi.